Il secondo Murales Già fin dal 1981 questi quattro sono stati premiati a Mileto, Raschi e De Zanni con una medaglia d'oro, con la cittadinanza onoraria a Vincenzo Tonneriani e con una penna d'oro a Gianni Mura per aver scritto un articolo sui giganti di Mileto all'arrivo di Campotenesi, il 1980. L'opera è stata realizzata dal maestro Vibo Valencia Antonio Lagamba che già ha realizzato altre opere e concluderemo ancora con altre tre, quattro, cinque opere che saranno rese pubbliche una settimana prima del giro, della partenza del giro. L'augurio è quello che tutto procede bene, abbiamo già provventato la strada, speriamo di poterla colorare in rosa e rosa ci auguriamo che sia il colore di tutto Mileto. Grazie a tutti i nostri spettatori